Io sono Moreno e mio fratello Gianluca. Portiamo avanti la scuola della modelleria tramandata da nostro padre. Questo qui è l'alluminio. Febbraio 2020 lo pagavamo 2,60 euro. Gennaio 2022 4,90 euro. Dobbiamo, ad esempio, l'acciaio lo portiamo a trattare, fare di trattamenti termici. Ci hanno inviato aumento del 23%. Questo alluminio e questo acciaio. Non c'è consegna perché le fonderie non riescono ad avere approvvigionamenti di materia prima. Poi gli spieghi di trasporto. Un container costava 700 euro, adesso ne costa 3.000. Di solito normalmente fai preventivo e va essenzialmente data di scadenza. Adesso metti i preventivi e hanno valita 30 giorni. Questa è una fresa a controllo numerico. Quanto è costata? Centinaia di mila di euro. E quanto vi costa al mese? Adesso sono arrivate le rate, sono 7.000 euro al mese. Pollette, guardi. Novembre 2020, la pagavamo 0,18. Novembre 2021, 0,37. Quindi si è raddoppiata. Dicembre 2020, 3.900 euro. Dicembre 2021, 10.900 euro. Se non ci danno una mano, l'alternativa, ed è una cosa molto grave, perché mettiamo in strada il mio piccolo 25 persone, è aprire questo qui e tirare giù la sala cinesca del contattore.